Il giorno della memoria non è soltanto una ricorrenza in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia ma è un invito costante e stringente all'impegno e alla vigilanza Vanno apprezzate quindi le iniziative che tramandano la memoria e che creano gli anticorpi contro gli orrori del passato. L'associazione La Memoria Viva con il progetto del docufilm dedicato a Lidia Maximovic si è assunta quest'impegno. La stessa Lidia oggi ottantenne come tanti altri sopravvissuti nei suoi incontri con i ragazzi continua a essere una testimone tenace delle atrocità della Shoah perché è ai giovani che viene affidato il compito di custodire e tramandare la memoria affinché questa non si attenui e non si smarrisca mai per scongiurare nuove tragedie e nuovi lutti. Con i migliori auguri per la riuscita dell'iniziativa Sergio Mattarella